Mister Antonello Spagnuolo, era importante vincere, grande prestazione di carattere dei suoi ragazzi, una partita cinica del termo li potremmo dire. Sì, i ragazzi come ho detto in precedenza sono stati fantastici, abbiamo lavorato questa settimana qua cercando di dare dei piccoli consigli per poter affrontare un Avezzano forte, un Avezzano che comunque sulle tre trasferte ha fatto tre vittorie, perciò abbiamo cercato comunque di mantenere una squadra compatta, una squadra quadrata, una squadra concentrata minuto per minuto, perché loro hanno dei giocatori importanti per questa categoria qua e l'hanno dimostrato su tante giocate. Nel primo tempo li avete sofferti parecchio, poi nella ripresa insomma avete trovato le giuste misure? Sì, il primo tempo li abbiamo anche per un discorso tattico, abbiamo concesso quel campo in più, loro sono stati bravi a fare alcune grosse giocate in spazi strettissimi, perciò sono stati bravi, però noi l'avevamo preparata in un certo modo, poi pian piano ci siamo anche sciolti, siamo riusciti comunque a poter giocare leggermente meglio appena che le linee si sono allargate da parte dell'Avezzano e poi insomma con un pizzico di fortuna, con un po' di bravula, con grande umiltà, con grande cuore, siamo riusciti a portare a casa tre punti. Il rimpianto forse è che vi manca un po' la lucidità sottoporta? Ma no, piano piano viene tutto, l'importante, io credo che la cosa importante è la prestazione, quando c'è la prestazione, quando c'è il cuore, poi dopo tutto può venire meglio, comunque dobbiamo sempre ricordare che comunque venivamo da un momento difficile, venivamo da un cambio d'allenatore, venivamo da delle sconfitte consecutive, perciò comunque non è facile poi scendere in campo e fare una prestazione del genere da parte dei ragazzi, perciò è da fargli i suoi complimenti. Ora vi aspetta però un tour de force? Sì, come dicevo prima, adesso è mentale, bisogna metabolizzare subito quello che si è fatto oggi per cercare subito di ricaricarsi, perché comunque andare a San Benedetto non è facile, poi passo a girarti in casa, si gioca ogni tre giorni, la forza adesso è proprio mentale, riuscire a resettare per ripartire subito. Simone Arrinella, era importante vincere dopo un avvio di stagione difficile, una prova di carattere, siete stati bravi e cinici. Sì, assolutamente, i tre punti ci mancavano tanto e finalmente sono arrivati, non potevamo essere più contenti. Abbiamo lavorato bene in settimana e ce lo meritavamo. Tu hai avuto anche diversi problemi fisici e adesso ti stai riprendendo? Sì, mi sono rotto il piede a Campobasso il 27 agosto, per me tornare a titolare oggi era veramente importante e sono felicissimo. Ringrazio il prof che mi ha messo in piedi con due settimane, il fisioterapista che mi vede tutti i giorni, è veramente uno staff che lavora benissimo e noi tutti uniti siamo riusciti finalmente a ottenere tre punti, ce lo meritiamo. Cosa non ha funzionato fino a questo momento e diciamo che oggi potrebbe essere anche la partita della svolta? Noi rimaniamo umili ovviamente, dobbiamo solo continuare a lavorare, pensiamo al campo, pensiamo agli allenamenti e pensiamo a fare il massimo la domenica. Fino adesso le cose potevano andare meglio ma il passato è passato, l'importante è guardare avanti e fare sempre meglio. Primo tempo meglio l'Avezzano, nella ripresa il Termoli ha trovato le misure? Noi abbiamo pensato a combattere tutta la partita, abbiamo pensato a giocare, noi facciamo il nostro gioco e quello è l'importante. Poi piano piano ovviamente speriamo di raggiungere sempre più risultati ma rimanendo concentrati sono sicuro che ce la faremo. Sì è vero, il primo tempo diciamo che abbiamo sofferto ma penso anche il secondo, alla fine abbiamo fatto una partita di sofferenza e penso che tutti oggi abbiamo messo il cuore e lo stracolo. Abbiamo lottato tutti e penso che oggi si è visto che lottare ripaga e poi abbiamo trovato quel gol lì e ci siamo difesi. Sì adesso abbiamo queste sfide che non so se terribili o stimolanti alla fine, abbiamo tre partite fondamentali, una l'abbiamo vista oggi, poi abbiamo mercoledì e domenica quindi penso che siamo stimolati anche dal punto di vista mentale per lottare sempre di più giorno dopo giorno.